Però c'è anche da dire un'altra cosa, su questa iniziativa dove sono stati messi in legge di stabilità fior fior di milioni di euro, bisognerebbe riflettere un po' di più, perché tu mi dici che mi fai un bellissimo grande raccordo onorare per la bicicletta, ma nelle zone dove lo vuoi fare non le hai bonificate. In quelle zone, quel tasso di immondizia che noi vediamo non è generato solo dai romani, bisogna essere onesti in questo, perché in quelle zone sono state lasciate all'incuria generalizzata far crescere accampamenti abusivi, alcuni rom, alcuni di altre etnie, alcuni anche probabilmente nati dalla necessità di alcuni di andarsi magari a drogare in quel posto perché è più nascosto e più isolato. Quindi sono terre di nessuno. Allora, da questo punto di vista, prima di fare questa grande operazione che io ritengo più di immagine, dopodiché io non faccio sport e lo vorrei fare, sono purtroppo da questo punto di vista una pessima testimonia nel tassenso, però benvenga, ci mancherebbe altro. Però non mi si venga a dire che serve quello. Il trasporto pubblico, l'hai detto tu prima, non c'è a Roma. Voglio far vedere una cosa affascinata, che affascinata si vuol prendere questa...